Ho cominciato a sparare nel 2012 grazie a mio amico che già lo praticava e ho provato anch'io. Ho sempre avuto una passione e una voglia di provare a sparare e poi il tiro sportivo mi intriga per la precisione, per la calma, la costanza e mi aiuta anche nella vita privata. Mi ha aiutato molto con la calma e nel gestire certe situazioni e mi riesce più facile che altri sport, quindi anche per quello è una bella cosa. Un paio dei momenti più belli che ho avuto nel tiro sportivo è innanzitutto la medaglia di bronzo in giochi olimpici giovanili e poi la qualificazione per olimpiadi l'anno scorso. Grazie. Grazie.